Buon pomeriggio. Ebbene noi ieri qui a Lecce abbiamo tenuto una conferenza stampa durante la quale abbiamo presentato tutti i nostri candidati sia nel listino plurinominale che nell'uninominale. Chiaramente abbiamo invitato la stampa locale però questa mattina sul diciamo così il principale quotidiano della della città sto parlando di Lecce ebbene c'era un grandissimo e bellissima intervista con tanto di fotografia e paginone su D'Alema che voglio ricordarvi si scontra con me nel collegio uninominale di Nardò e Gallipoli e dall'altra parte c'era l'altro super candidato per il centrodestra altra mega fotografia altro mega paginone per Raffaele Fitto la nostra conferenza stampa con tutti i candidati era relegata forse sarà stata la quarantesima pagina nella rubrica delle cronache insomma quasi trasparente ebbene guardate io molto spesso ci siamo ritrovati a parlare a proposito dei media ma quando si vedono queste cose questo è davvero è un inganno io mi spingo a dire che è un inganno nei riguardi dei cittadini perché se la prima forza politica del paese tiene una conferenza stampa almeno abbiate la decenza di dare pari dignità a tutte le forze politiche invece no che cosa si fa nel momento che negli ultimi vent'anni ma anche di più nel caso di D'Alema si parla di più di trent'anni questi personaggi si sono spartiti il territorio spartiti il territorio devastandolo e impoverendolo dove ci sono dei parlamentari che non hanno fatto altro in questi anni che fare i mendicanti a chiedere il milioncino di euro il tre milioni di euro giusto per mantenersi il bacino elettorale senza avere una visione di paese di mezzogiorno senza avere veramente una progetto per il sud questi hanno miseramente fallito fallito e tutti i dati lo dicono ma che cosa abbiamo noi i media che lasciano ampio spazio alle ennesime bugie e mi sento parlare D'Alema che diceva ma io su tappo ad esempio non ho mai cambiato idea hanno cambiato idea tutti e il cambio è un'idea di continuo solo noi il movimento 5 stelle ha avuto sempre e solo un'idea tappo non deve essere costruita né qui né altrove perché il gas serve al resto d'europa e non a noi andate a dire al partito democratico di boccia e a tutta il centro destra che continua a dire che noi con il tappo andremo a pagare la bolletta in maniera inferiore insomma pagheremmo meno di bolletta andate a dire a tutte queste persone che ingannano i cittadini che in realtà nel ratifica del trattato internazionale per costruire tappo c'è una bella deroga alla direttiva sulla concorrenza che invece concederà a tappo per 25 anni la possibilità di rimunerarsi il capitale investito quindi senza abbassare alcuna bolletta qualora quel gas si dovesse fermare in Italia cosa che ancora questa non è scritta da nessuna parte quindi è un inganno e così poi insieme a tutte queste piccole deroghe c'è anche questo finanziamento della be che però tarda ad arrivare per fortuna tarda ad arrivare perché ci sono diversi sospetti di una mega corruzione per cui io vi ricordo anche che purtroppo è stata uccisa anche una giornalista maltese che indagava proprio su tappo ma poi guardate io ne sento dire davvero di ogni cosa da parte sia della destra che della sinistra vengono a dirci che per esempio si potrebbe decarbonizzare una centrale che è qui a Brindisi oppure far diventare l'ilva gas ma cosa? allora c'è un'intervista molto chiara dell'amministratore delegato Sarace di Enel che dice che contrariamente a quello che fa l'Italia e taccia il governo quasi che si definisce verde green del partito democratico taccia il governo di aver assunto delle misure timide perché loro vogliono andare avanti con le energie rinnovabili molto ma molto prima rispetto a quanto non voglia fare il governo vogliono abbandonare fossili perché vogliono diventare davvero indipendenti e poi insistono a dire anche con questa storia che si potrebbe diversificare l'approvvigionamento di gas ma andatevi a guardare almeno gli atti parlamentari è l'amministratore delegato di TAP che mi risponde a questa domanda e mi dice molto chiaramente che questo gas non va a diversificare ma sostituisce quello che già arriva allora se poi noi questa sostituzione l'andiamo a fare dall'Azerbaijan che con tutte le questioni geopolitiche intorno che ci sono non c'è alcuna rassicurazione peraltro nel consorzio di Chadeny lì dove deve essere estratto il gas ci sta pure la Russia quelli per cui loro stanno dicendo che vogliono diversificare da Putin di quando c'è proprio l'azienda russa quella nazionale di Putin lì dentro di che stiamo parlando? di un grosso affare che serve soltanto a qualche big ma che non serve al nostro territorio poi parlano del tubicino un tubicino che non fa male a nessuno beh allora io invito poi i turisti a stendere asciugamano e a piazzare l'ombrellone sotto una bomba eh? perché di questo stiamo parlando perché c'è un tubo di gas non è che c'è un tubicino non è una cannuccia per bere un'aranciata o una spremuta se andassi a dire a D'Alema, a Bellanova e a tutto il centro-destra il centro-destra perché per loro guardate per tutti gli uomini di Berlusconi TAP sarebbe un modello di sviluppo per il nostro territorio cioè a noi non serve il turismo non serve l'innovazione la cultura non serve la ricerca non servono le università no, non serve tutto questo a noi serve TAP secondo il centro-destra questa è la grande verità e si trovano fortemente d'accordo proprio con la sinistra eh? sono anche qui una santa alleanza purtroppo è così e allora guardate, oltre al tubicino di cui parlo ma che non è tale però c'è anche qualche ettaro di terreno che verrà occupato da una bella centrale di pompaggio che purtroppo dovrebbe far subire delle nuove emissioni di fumi nel nostro paese, nel nostro Salento che davvero non può permettersi dovrebbe, io uso il condizionale perché noi andremo al governo e TAP non si farà e non andassero a dire magari i giornalisti ai vari D'Alema, Fitto che imperano sui giornali dicendo bugie con la complicità dei giornalisti che hanno paura evidentemente preferiscono cedere cedere si mettono in mutande davanti a chi si è spartito il territorio negli ultimi decenni lasciando loro i paginoni pieni e facendo finta che il Movimento 5 Stelle non esiste invece il Movimento 5 Stelle esiste esiste come? e io dico qui che posso partecipare a qualsiasi intervista ma ci deve essere sempre un confronto serio con i miei competitor con D'Alema, con Bellanova, con Cariddi che è del centro-destra non andrò appresso a pettegolezze, a domande vuote, strumentali di qualche piccolo giornalista che si pensa di essere chissà chi che parla ancora di polemica di qualche decina di persone io voglio parlare del programma, io voglio parlare di TAP dello sviluppo del nostro Paese degli investimenti io voglio parlare di quello che noi vogliamo fare per il Sud altro che dicono che noi per il Sud non abbiamo inserito nulla noi abbiamo una visione completa di Paese e abbiamo una visione completa di Mezzogiorno noi ci siamo stancati delle mancette date ai piccoli baroni che, ripeto, io li ho visti negli ultimi cinque anni qui fanno i baroni ma in Parlamento sono poco meno di mendicanti che vanno con la coda tra le gambe al ministro di turno a cercare per favore un qualche milioncino per garantirsi qualche voto è un'indecenza e purtroppo i media, locali, salentini danno ossigeno a quell'indecenza ma i cittadini ormai si stanno voltando dall'altra parte grazie